Ha fatto tutto da solo e fortunatamente non versa in gravi condizioni l'automobilista cinquattottenne residente nel Comasco che è capottato in un fosso lungo la strada statale adriatica poco prima di Fano in località Baia del Re con la sua Citroen C3 poco dopo le 14.45 di oggi. L'uomo che procedeva in direzione Pesaro-Fano per ragioni ancora in via di accertamento poco dopo fosse sei ore ha iniziato a sbandare vistosamente fino ad invadere completamente la corsia opposta dove ha urtato presumibilmente le protezioni laterali per essere poi riportato come una biglia impazzita nuovamente sulla corsia sud ma finendo la sua corsa nel fossato al margine destro della carreggiata dove ha urtato violentemente con la ruota anteriore destra contro un pesante tombino di spezione in ferro con un basamento in cemento armato che gli ha fatto da catapulta facendolo finire sottosopra. Sul posto vertiti dagli stessi automobilisti che hanno assistito alla carambola sono arrivati i vigili del fuoco di Fano che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il cinquattottenne che è rimasto sempre cosciente e subito soccorso dal 118 che lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Pesaro dove si trova tuttora. Sono intervenute anche tre pattuglie della polizia locale una per i rilievi di legge e due per regolamentare la viabilità lungo la statale che fino alla rimozione dell'auto è stata a senso alternato e dove si sono registrati rallentamenti e brevi code.